Salve, ecco, vi faccio vedere questo libro, Il piccolo treno del Vietnam, di Philippe de Balein. L'ho trovato usato in una bancarella in Francia. Perché l'ho comprato? Perché questo libro è del 1995, cioè prima che il Vietnam diventasse la tigre asiatica che tutti noi adesso conosciamo. L'autore, piccolo treno del Vietnam, cosa fa? Fa un viaggio in treno, andata e un presto anche di ritorno, tra Saigon e da noi. E racconta in una ventina, forse anche di più, 24, 25 pezzi accidenti, 27 piccoli frammenti, gli incontri che fa, le persone che vede, le sue impressioni sul Vietnam. Insomma, quello che succede anche in un treno, il treno appunto che lui prende da Saigon fino a da noi. Quali sono le impressioni di questo libro? Lui è un francese, ed è un libro scritto da un francese, credo proprio per i francesi. Cioè tutto quello che lui racconta è in qualche modo connesso alla Francia. D'accordo che i francesi si sono stati in decina per un secolo e quindi insomma c'è molto di francese in quello che lui vide nel 1995, però insomma essendo un po' eccessivo. Manca l'empatia, manca la capacità di in qualche modo immedesimarsi in questo in questo popolo vietnamita e di capire un pochettino quello che sta succedendo. Non è che lui dice che i francesi sono meglio e i vietnamiti sempre, però tutto è riferito ai francesi, ogni cosa che fa. Quindi questo non è che lo rende così proprio piacevole, così utile. Verso la fine degli ultimi due capitoli poi parla proprio di investimenti francesi e molto molto tecnico di quello che fa la Francia e il fatto che butti molto i soldi in Africa invece di buttarle nel Vietnam, che sarebbe molto più molto più utile. Ecco diciamo che è una visione che ha un italiano che si compra il libro per vedere un pochettino cosa si dice nel 1995, Vietnam non va. Per la prima volta e non finisco la mia recensione dicendovi buona lettura, beh innanzitutto perché non credo sia stato mai tradotto in italiano, secondo perché è vecchio nel 1995 non penso neanche che abbia avuto tutto questo gran successo. L'unica cosa che mi è rimasta così un po' in mente di questo libro è il racconto che gli fa un guidatore di Richon su come a Saigon cercano di borseggiare i turisti di stranieri. Ed è molto interessante perché inizia con qualcuno che invita a questo questo straniero che va a passeggiare per la città, lo invita con molta enfasi, con molta attenzione a stare attento ai propri soldi. Mi raccomando chiuditi la tasca, stare attento e pieni borseggiatori insomma insiste. E questo porta a un automatico comportamento di questa persona che subito mette le mani nelle tasche dove hai soldi e questo serve già per individuare dove tieni i soldi. Questa cosa è molto interessante. Poi viene seguito e quindi lo osservano, cercano di studiarlo, più persone nel corso del suo tragitto, per esempio valutano se lui ha soldi vietnamiti o dollari, perché i soldi vietnamiti, valendo poco ciascuno, sono dei bei pacchi di carta, sono anche difficili da rubare, quindi viene lasciato perdere. Mentre i dollari americani, avendo un valore molto elevato, sono presenti in sottili pacchettini più facilmente, come dire, rubabili. Lo seguono fino a che a un certo punto capiscono dove i soldi, capiscono tutto. Lui incontra qualcuno che come vuole dargli un giornale, insomma lo distrae e in quel momento li fregano, li fregano i soldi. Molto interessante, soprattutto la prima parte. Benissimo, non vi faccio più nemmeno vedere il libro e vi dico arrivederci.